Fai la pineta eh! No! Salta su! E' andata di la Spanti! No no! Ma quella l'abbia appena pulita è brutta Più bella la discesa qua E' appunto! Fagliela fare no? No! 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 Vai piano eh! Vai piano eh! C'è 102 o 3 piante! Beh vedi? Porca trota oh! Minchiarella! Guarda! Guarda la porta via eh! Arriva! Anche troppo veloce arriva! Guarda! 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 25.000 euro di moto. Abbiamo un video, 25.000 euro di moto, tutte e due la ruzzare in discesa, 28.000 euro di moto. Tutte e due la ruzzare. Ce l'abbiamo documentato. Hai fatto anche l'ultimo. E' certo. E' certo. Quello si è che te l'ho fatto. Aspetta, Pietro. Via, via, dagli un metro, oh. Oh, cazzo. Dagli due metri. Sparda. A seguire loro. Allora, subito. Ciao. 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 Ciao.